18 milioni di euro restituite agli utenti in 10 anni e 54 milioni di euro spesi sul territorio solo nel 2023, un anno da record per gli investimenti. Gaia SPA traduce così in numeri il suo impegno sul fronte della responsabilità sociale d'impresa e lo fa nel corso di un convegno organizzato ad hoc insieme all'Università di Firenze. Gaia proprio come azienda pubblica negli ultimi 10 anni pensate che ha restituito circa 18 milioni di euro ai propri utenti attraverso due strumenti ormai da anni nel bilancio della società che sono il fondo utenze disagiate e il fondo nuovi investimenti. L'anno 2023 ha segnato l'anno record di investimenti per il gestore nella sua storia, 131 euro di investimenti pro capite e 54 milioni in valore assoluto, quindi siamo nel picco. Tra le opere finanziate il raddoppio del depuratore di Viareggio che dovrebbe essere completato nel giro di pochi mesi, il rinnovo delle infrastrutture per la lotta alle perdite e l'estensione della rete fognaria.